In stampa oggi pomeriggio, in realtà da New York, vediamo quali sono i temi fondamentali dei giornali che peraltro avete già letto, però uno di questi secondo me va la pena commentarlo. Tutti i giornali titolano sul cosiddetto assalto no vax, cioè da parte di quelle persone che pensano che i vaccini obbligatori siano un errore. È passata la legge per cui da 4 a 10 diventano le vaccinazioni obbligatorie per poter iscrivere i propri figli a scuola. Vi dico una cosa che vi potrà stupire, ho una certa simpatia nei confronti di coloro che sono contro l'obbligatorietà, anche se in questo caso l'obbligatorietà dei vaccini vuol dire la cosiddetta difesa del branco, cioè la possibilità per i bambini che hanno dei problemi di essere sostanzialmente immunizzati dal fatto che tutti gli altri non contrarranno quella malattia. L'aumento del morbillo in Italia è una cosa incredibile, così come è totalmente basata su una falsità, il legame tra l'autismo e la vaccinazione, una falsità che poi è stata conclamata e dimostrata con l'annullamento di quella intervista, di quel paper fatto su Science. Ma fatte tutte queste premesse, cioè che bisogna sempre comunque vedere le ragioni di tutti quanti, c'è una cosa che è allucinante. È allucinante intanto l'utilizzo della violenza nei confronti dei parlamentari del PD che si sono usciti. I toni di queste persone sono allucinanti. E poi i tre slogan. Siete degli assassini. Non si capisce qual è il motivo per il quale i parlamentari che votano per l'obbligatorietà dei vaccini dovrebbero essere degli assassini. Si potrebbe dire il contrario, cioè che sono degli assassini coloro che permettono, se volessimo usare il loro gergo, che permettono ai loro figli di non essere vaccinati e di fondere così malattie che oggi non esistono più. Vi dovete vergognare, che è un altro dei criteri fantastici che è sulla rete, cioè sono proprio i tre canoni che avvengono sulla rete degli insulti anche nei miei confronti. Ti devi vergognare. Vergognare di che? Loro a voce alta hanno votato l'obbligatorietà dei vaccini. Si devono vergognare, mi sembra una cosa, forse si deve vergognare nei confronti dei propri figli, chi insulta e va a Roma a dare i cazzotti contro le macchine dei parlamentari. Loro sì che si devono vergognare. Siete dei venduti. L'altra cosa fantastica della rete è il complottismo. Qualcuno, anche qua su Facebook, è fantastico perché sono i luoghi del complottismo. Chi ti sta pagando per dire quelle cose? Cioè siamo tutti pagati. La mia pensée è che ci sia sempre una specie di manovratore che decide tutto quanto. Chissà chi mi sta pagando oggi l'albergo in New York a me per dire queste cose? Chissà che il Big Pharma sta con me. Vogliamo parlare del pericolo contagio da tetano. Adesso arriveranno tutti quanti quelli che sono contro l'obbligatorietà dei vaccini su questa pagina, così come sono venuti nei giorni scorsi tutti coloro che non avendo capito, non avendo letto il mio pezzo sui vegani alla Appendino. Ovviamente qua adesso parleranno tutti quelli contro i vaccini. Benvengano se i toni sono quelli, non di quei delinquenti che si sono permessi di prendere a cazzotti delle auto. Se non c'erano le auto, se non ce la dico, si avrebbero preso a cazzotti dei politici che hanno votato secondo la loro coscienza. Va bene? Va bene? Benissimo. Sono loro che si devono vergognare, come dice giustamente Pierpaolo. Quindi i tre siete degli assassini, vi dovete vergognare venduti. Fantastico, no? Abbiamo spostato la rete nella piazza di Roma. Insomma, sembra veramente una delle campagne più ma riuscite dei grillini che peraltro oggi, come si vede sui giornali, si sono dissociati completamente pur un po' accarezzando queste tendenze antiscientifiche, tra cui anche quella del legame tra la vaccinazione e certe malattie. Vedete, il problema non è tanto l'obbligatorietà o meno, sul quale intellettualmente io potrei parlare per ore sull'obbligatorietà di un trattamento sanitario, ma il punto è un altro, è la scientificità, cioè la mancanza di scientificità nel legame che c'è tra i vaccini e per esempio l'autismo, come molti di questi sostengono. Andiamo a parlare sempre di rete, perché oggi mi ha affascinato il pezzo, mi sembra, sul Corriere della Sera o non so, su quell'altro giornale, in cui si mette in evidenza come Google dia la patente di maggiore età, cioè permetta di costruirsi un profilo sulla rete, superati i 13 anni. A 13 anni si è già in grado di andare sulla rete. Allora, questo è inutile che combattiamo contro i muliti in vento, anche in questo caso possiamo essere più o meno d'accordo su questo, ma avviene che i ragazzi vanno sulla rete molto prima dei 13 anni e sono molto più tecnologici e digitali di noi e perciò intanto vedo che molti, Nicola i vaccini ai tuoi figli, certo Giuseppe i miei figli sono tutti vaccinati, hanno fatto anche i vaccini non obbligatori, ma comunque non è questo il punto, il punto qua stiamo parlando di altre cose, ma certo che sono vaccinati e io credo fermamente nei vaccini. Stavamo parlando di Google, anche lì ci vorrebbe un vaccino, cioè un vaccino che però possono fare soltanto i genitori sull'utilizzo della rete da parte dei 13 anni. Il digitale sta ovviamente soppiantando tutto l'analogico, non possiamo impedire ai nostri figli di leggere i giornali a 12 anni, diciamo 20 anni fa e probabilmente non possiamo permettere ai nostri figli di andare su Google a 13 anni oggi. Il New York Times, a proposito di digitale, in un pezzo di oggi sul New York Times è molto interessato perché dice che per la prima volta, stiamo parlando del secondo trimestre del 2017, le entrate digitali hanno superato quelle delle pubblicità, diciamo delle entrate offline e sono cresciute del 23%, cioè le entrate digitali, sono arrivate per il New York Times a 55 milioni di Euro in un solo trimestre. Possiamo dire, dice il New York Times nei suoi risultati che riguardano la sua compagnia, che per la prima volta le iscrizioni, cioè le sottoscrizioni, gli abbonamenti, gli introiti di abbonamenti digitali che sono pari a 83 milioni hanno superato la pubblicità sulla carta. Cioè quello che voglio dire è che il New York Times sta guadagnando più soldi dell'anno precedente grazie al digitale, un liberista che per i vaccini obbligatori, mi dice Domenico Lombardo. Allora intanto semmai un liberale, non un liberista, perché il liberista è il contenuto economico della libertà e i liberali, di fatti su questo discutono, molto discutono su questo, sui vaccini obbligatori. Qua si tratta di un principio base dei liberali, Domenico, su quale possiamo anche discutere per ore, ma la libertà mia finisce quando può violare la libertà degli altri. Io posso essere liberale, ma non posso essere liberale nell'uccidere una persona. Se noi pensiamo che l'immunità del greggio sia una delle conquiste sociali e sanitarie di questo secolo, forse pensiamo che in quel momento la mia libertà venga meno, così come la mia libertà di ammazzare una persona che mi insulta, la mia libertà di farmi giustizia da sola, la mia libertà di uccidere lo stupratore che ho incontrato per stata, la mia libertà di non passare col rosso. Quindi il liberale rispetta il rosso, il liberale rispetta le leggi, va bene? È evidente che comunque il liberale si pone un problema. Questo tanto per fare una piccola dizioncina sui liberali e liberisti. Sul Google New York Times ne abbiamo parlato, straordinaria la situazione della CEA, si è dimesso, lo avevamo già detto ieri, il direttore generale Rotta, ma la cosa incredibile, Repubblica oggi lo cita, che uno dei consiglieri grillini del Movimento 5 Stelle dice, all'assessore al bilancio, non uno qualsiasi, secondo un retroscena di Repubblica, dice qua non va a sbattere soltanto la Raggi, qua va a sbattere tutta la città, chiaro? Va a sbattere tutta la città sulla questione dell'Atac. L'Atac sarà uno dei problemi più grossi che ci sarà a Roma, non è un problema certamente solo della Raggi, non è certamente un problema come Raggi fa finta essere soltanto di rota e lì c'è una logica molto semplice, se il direttore generale in tre mesi avrebbe dovuto risolvere il problema dell'Atac, allora dobbiamo imputare anche alla Raggi l'incapacità in tredici mesi di aver risolto i problemi di Roma, non è vero, la Raggi non poteva risolvere in tredici mesi il problema di Roma e così come rota non poteva risolvere in tre mesi il problema dell'Atac, ma rota dice una cosa in più ed è una cosa gravissima e dice che comunque l'Aggiunta e il Presidente della Commissione Mobilità, che è uno dei Movimento 5 Stelle, ha fatto pressioni e raccomandazioni su una società e su dei ragazzi da essere promossi, ecco, quella roba lì non si può lasciare appresso, io vorrei sapere cosa sarebbe successo sul Fatto Quotidiano, sui giornali, insomma un po' più giustizialisti se questa cosa fosse avvenuta nei confronti di un Assessore, di un Presidente di una Commissione Mobilità di Forza Italia, se fosse venuto lui a fare pressioni per promozioni e addirittura una società di ticketing promossa dal Presidente della Commissione Mobilità sarebbe successo un po' di ferio, ma siccome del Movimento 5 Stelle vale il principio no vax. in Sicilia, genialata del centrodestra secondo la verità di Maurizio Belpietro, si divide anche in Sicilia perché in autunno si andrà a votare per la Presidenza della Regione dove il centrosinistra difficilmente riuscirà, il centrosinistra difficilmente potrà ricandidare il crocetta e il centrodestra rischia di dividersi e dice Belpietro, genialata il centrodestra che potrà candidare forse al Fano. Vabbè, staremo a vedere sui cantieri, guardate oggi ho scritto sui cantieri, sapete che cito poco i miei pezzi, ho scritto sul giornale e scrivo che il gesto più facile per noi sarebbe quello di fargliela pagare, un po' come Rambo, vittime di una grande ingiustizia, tosti e duri, alla fine dobbiamo vincere e combattere contro tutti, contro l'Europa, contro i francesi, contro tutti quanti. Abbiamo ragione noi sulla questione, così come aveva ragione Mediaset sulla questione dove lavoro, dove aveva questi sui fondi, gli stessi francesi che smentiscono un contratto esattamente un anno fa. Nicola, informati bene sui vaccini, non mi piace più, è fantastico, informati bene, io mi devo informare bene sui vaccini, non voi vi dovete informare bene sui vaccini. Va bene, sui cantieri scrivo semplicemente che il gesto più credito, che piacerebbe di più, tra virgolette più populista sarebbe dare uno schiaffone alla Francia, non so, su Telecom, sulle banche, sugli amministratori delegati di Unicredit e di generali che sono due francesi, su Edison che è controllata dall'energia francese, energia francese che fu impedita agli italiani di comprare quando era De Vilpen liberale e presidente premier francese e oggi Conti dice che c'è andata bene non aver comprato la Francia perché abbiamo fatto un'altra strategia in Sud America e in Spagna e c'è andata meglio, ma insomma il punto fondamentale è che in realtà l'Italia non può dare uno schiaffetto oggi, non le conviene dare uno schiaffetto oggi per dei cantieri di 80 milioni, ma deve capire da questa storia che se non siamo tutti uniti in Europa, in Italia e la smettiamo di attaccarci l'unico o l'altro, Berlusconi è un ladro e va a puttane come fece l'opposizione di sinistra quando Berlusconi governava o oggi Renzi è un cretino, Gentiloni un po' meno perché mette d'accordo tutti quanti, ecco se non ragioniamo come sistema paese ma sempre come dei galletti, i galletti francesi ci fanno un mazzo così, ecco che io dice ridateci la gioconda, tante cose ci dovrebbero da ridare dopo le campagne napoleoniche. Va bene, vi do un grande saluto, vi do un appuntamento a domani per la zuppa di porro. Ciao ciao!